Lo sportello del cittadino si sta occupando del triste fenomeno sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto giuridico dello stalking. Lo stiamo facendo con la consigliera di parità della provincia di Taranto, l'avvocato Gina Lupo. Stiamo così analizzando le varie figure, il soggetto attivo lo stalker e poi abbiamo visto il soggetto passivo la vittima. Ora mi viene una curiosità, parlando dello stalker, del predatore, ma c'è una differenza comportamentale, una differente tipologia tra lo stalker uomo e lo stalker donna? Allora cominciamo a dire che non abbiamo noi il vangelo sul comportamento. Parlo da un punto di vista prioristico, di esperienza personale, di chi gestisce questi casi nell'abito di uno studio legale da tantissimi anni. Posso dire che dalla base della mia esperienza lo stalker uomo cerca il contatto fisico con l'amata, cioè un uomo che ha avuto una relazione comunque affettiva con questa persona da cui si sente respinto. È il classico esempio del fidanzato che viene abbandonato, il marito che viene lasciato. Quindi cerca l'uomo un contatto fisico, il che fa sorgere nella vittima una paura di temere proprio della sua incolumità, perché è l'uomo che cerca un abbraccio, un bacio, cerca un contatto, cerca un rapporto sessuale. La donna, forse ti farò sorridere, cerca invece di rovinare la vita dell'uomo, del malcapitato, cioè se la prende magari con gli oggetti, se pensiamo alle auto distrutte, il classico esempio delle gomme tagliate, dell'auto scarabocchiata con insulti vari, qui possiamo definire che non lo farebbe mai uno stalker uomo, ma è un tipico comportamento femminile, quello di colpire l'oggetto d'amore del suo ex compagno, del suo ex fidanzato. La stalker donna rovina la quiete familiare, fa le telefonate alla moglie, cerca addirittura di esserne amica, cerca di entrare all'interno della famiglia per creare scompiglio. Possiamo definire comportamenti distinti perché nascono appunto da un atteggiamento standardizzato sia dell'uomo che della donna. L'uomo cerca il contatto, la donna cerca di rovinare gli oggetti dell'uomo.